Perché questi ragazzi sono in giro? Bella domanda, sono passeggiate di quartiere, è un'attività didattica, una metodologia didattica a tutti gli effetti, portando dei ragazzi a conoscere il loro territorio, apprezzarlo e conoscere le vulnerabilità e sapersi comportare in caso di eventi diciamo alluvionali bene nel proprio territorio. E quale quartiere stanno visitando? Noi siamo partiti dal nostro istituto, dalla nostra scuola alla fine di Via Libertà, quindi il Donegani, e ripercorrendo le tracce del torrente Pignataro dalle colline di Santa Lucia fino alla Foce, quindi via Miscello d'Aripe, mappando punto per punto il presunto passaggio del torrente Pignataro su Crotone. Quest'idea del professore Cosentino vi piace? Sì, ci piace molto perché anche per conoscere meglio la nostra città, per vedere le zone a rischio quando piove. Una città che ha tanti problemi? Sì, molte volte quando piove perché molte zone sono colpite anche dal passaggio del torrente Pignataro sotto acqua, quando piove forte possiamo appunto vedere che molte zone si allagano. Questa mappa per cosa serve? Abbiamo tracciato tutte le zone dove passa tuttora il torrente Pignataro. E che cosa avete scoperto? Molte zone di Crotone, soprattutto le zone centrali, sono attraversate da questo torrente. Cosa vuoi aggiungere? Sono molto più a rischio perché siccome incomincia per esempio da via 25 Aprile, poi scende fino a qua e quindi è più pericoloso questa zona. Cosa vuoi aggiungere tu? Reputo questa attività molto importante, l'attività che ci ha permesso il professore Cosentino, diciamo, di uscire fuori e di visitare la città di Crotone e soprattutto il passaggio che stiamo facendo per la vera e propria mappa che abbiamo realizzato per verificare le varie zone a rischio di Crotone. Questa zona è particolarmente a rischio proprio perché sotto terra è presente ancora il torrente Pignataro e proprio durante le alluvioni, diciamo, i tombini, a causa della pressione, dell'alta pressione che si va a creare con l'eccesso di acqua, si inalzano e appunto allagano questa zona. Quindi è anche importante per saper circolare bene in questa città.